Ciao a tutti ragazzi, io sono Mosheless e oggi siamo qui con la patch 1.1.0 Andremo a testare questa nuova patch con i cambiamenti e modifiche in vista della stagione 2 Perché abbiamo già la copertina con la stagione 2 e su cosa andrà a basarsi questa nuova stagione Che arriverà il 14 giugno perché sulla stagione 1 c'è il nuovo New Gameplay Approach e le altre cosine E qui abbiamo un altro sottotitolo per la stagione 2 che si baserà sui campionati europei e altre cose Adesso andiamo a vedere un po' in gioco contro la CPU nella modalità offline perché ovviamente non si può giocare ancora fino al 2 giugno Verifica di rete, manutenzione del servo in corso sulla larga scala 2 giugno Al termine della manutenzione ottieni fino a 300 monete dalla nuova campagna Andiamo a verificare un po' il menu uguale a quello che già conosciamo Ci sono gli obiettivi Ci sono gli obiettivi che ovviamente non possiamo sbicciarci dentro perché verificarete, manutenzione del servo Poi vabbè Il menu con il resto è tutto uguale Andiamo Partita autentica Partita di prova Andiamo a testare un po' I cambiamenti Cose nuove Facciamo un baiamonia con Barcellona Allora Abbiamo impostazioni Che qua Giocabilità a livello superstar, medio e principiante Possiamo anche tenere condizione casuale Eccellente Buono Facciamo buono e buono Come fortunisti La velocità di gioco è 0 Facciamo ma com'era Anche se A livello superstar Non credo di fare bene Contro top club Vabbè Ci sono tutte le impostazioni come sempre Regolamento Ecco Fa i minuti 5 minuti Andiamo a mettere 10 minuti Per vedere Per avere più possibilità di Guardare cose Vedere un po' Testare il gioco Nel caso Tempio supplementare Il rigore Il numero di sostituzioni Facciamo 3 più 1 Nei supplementari 5 6 Vabbè Lasciamo le tre solite Pallone E football Quello non si può cambiare Poi stadio Siamo in casa nostra L'Allianz Arena C'è l'Allianz Stadio Ci saranno tutti quelli La soliti Penso Il camp L'Allianz Arena E' l'Allianz Arena E' l'Allianz Arena E' l'Allianz Arena Detto Ledo Neo Chimica Arena Anche perché c'erano modifiche No? Dagi stadi C'erano nuove licenze Quindi è possibile che Questi siano I nuovi stadi E' monumental E' football Perché a parte di football Questi 5 Forse gli altri Non c'erano Non lo so Non mi ricordo bene Quindi vanno per Usciamo dalla casa D'Empire Andiamo a fare Una trasferta Intercontinentale Un torneo Così Al Maracanà Di notte Vediamo di giorno Com'è Wow Lasciamo di notte Vada Bella sta cosa Stagione Inverno Estate Ma è notte Mi scusi Inverno di notte Estate di notte Perché c'è tutto il sole Di giorno com'è allora Quella Mamma mia E che ne Vabbè Voglio un po' più buio 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 Neve No Questi non si possono mettere L'unghezza dell'erba Lunga Porta Non vedo differenze Vabbè Noi siamo nel campo Bagnato Asciutto Bagnato Va bene così Andiamo avanti Perdiamo meno tempo Se no allunghiamo Per nulla Le istanzioni Del Maracanà E vabbè Le divise Sì Sono sempre quelle Ovviamente Mi credo Una nuova stagione Andai A giocarla Così Poi Andiamo Allo schema Di gioco Ovviamente Buono a tutti Abbiamo messo Quindi Non ci interessa Giocchiamo con Torni so fuori Kimmich Abit Sermi Entri Poi Ci sarebbe Goretzka Pure Abbiamo Goretzka Bavardo Adorare Sistemare Andiamo a mettere Le tattiche Andiamo un po' Vedere come Da questi due Esce Allora Andiamo Allora Intanto C'è da dire Che Nei menu Mi è sembrato Più veloce Meno pesante Il gioco Nei menu I menu Che erano Macchinosi Legnosi Più pesanti Adesso Mi sembrava Molto più fluido Il menu Selezionare Le cose Passare Alla schermata Dopo Mi è sembrato Un ottimo Che ci sia stato Un ottimo lavoro Dalla parte di Konami Dietro questo aspetto E E' già un passo avanti Perché Comunque Era veramente Degnoso Il menu Adesso Dovemo Provare un po' I dribbling La reattività Che è stata migliorata Dei dribbling Devo andare a vedere Un po' Gli arbitri Se fischiano Fischia i falli Quante volte Fischia Le decisioni Come vengono prese Ma mi interessava Pure una modifica Ai passaggi Perché Comunque Non vedo molti Parlarne Ma i passaggi Molte volte C'è questo problema Di lock Soprattutto quest'anno Sui football 2022 T2 Che Il lock Avviene sempre Sul giocatore In fondo E molte volte Ti becchi il fuorigioco Perché Perché Va sempre a selezionare Anche se carichi E giocatore E giocatore In fondo Qua non ha detto niente L'avete Ha lasciato correre Se era un tt Mi ha lasciato in gioco No Fuorigioco Beh sì Bella triangolazione Per capirlo Se ho ginocchio Fuorigioco Non lo so Allora Cambiare Il cursore Fl1 Sto provando a cambiare Siamo molto Molto veloce Molto veloce Molto reattivo E che selezioni Abbastanza bene Molto meglio Rispetto a prima Il giocatore Giusto Che si vuole selezionare Adesso ho fatto una cagata Proprio Una stupidaggine Potevo cercare di vedere Un po' il Dreamling Lì con Lewandowski Però Era appunto Lewandowski Quindi Non so Beh Non credo a Dreamling Chissà quanto Portiere Pazzito Neuer Che esce da solo E la butta fuori A posto di darla lunga Centrale No La buttiamo fuori Fallo Fallo Fesso è giusto Mi è andato Adosso La gamba Del difensore Eh ciao Il difensore è andato Adosso la gamba Dell'attaccante Avversario Sero Bruttissimo Ci sarebbe Anche da provare Di lasciarli andare Verso porta Da soli Per testare L'uscita Del portiere Che Dovebbe essere Stata migliorata Lì a Del portiere Che in uscita In pratica Non ci arrivava mai Sulla palla Ed era Un gol Free Passaggio Dietro Di tacco La palla Scorre Però Sanè Comunque Beh Ma era un palo Ma si sono fatti Da soli palo What the fuck Sanè Anche se ha lasciato Scorrere C'è andato Sulla palla Prima Lasciavano Scorrere Basta Ma si muovevano Una cosa buona Fa Abbiamo problemi Un attimo Vabbè Eeeh Vediamo Kimish Dovesse stare dietro E Muller Altro po Porco Niente Sta facendo Merina Ok Buono Come buono Forza Davis Forza Davis Parte In corsa Niente Non so Io Non so Non so Bene Le varie skill Da fare Su Questo gioco Quindi Cioè Su Questo gioco In realtà Su ogni gioco Di calcio Le skill Praticano Le uso Ok Adesso andiamo A pressare Pressiamo Pressiamo Non è C'è l'abitudine Di andare Di levetta Perché Comunque Ed Abde No Che comunque Perché l1 Non funzionava bene Però questa volta Stavo sbagliando Con la levetta E con l1 Sono riuscito a vedere Giusto in tempo Il difensore Che Ha bloccata Col corpo Vediamo un po' Anche calci d'angolo C'è una modifica Sui difensori Che non ci arrivavano mai Con uno schema Che adesso Non mi ricordo Ma fa qual era Però comunque Con una strategia Nei calci piazzati Il difensore Era Diventava inutile Che è successo Perfetto Allora Ci sono quasi 45 minuti Gioco Più giocabile Decisamente Più Migliorato Più fluido Nei movimenti Si riesce a difendere Anche meglio Nonostante Quei gol Bruttissimi Subito Perché Si difende meglio Grazie Anche al fatto Che l1 Finalmente funzioni Bene E vado a selezionare In tempo I giocatori Interiprenda Magari online Diverso Rispetto A giocare Contro computer Magari online Invece Prende di nuovo A non funzionare Però va bene Così Andata parata Sul cross In federe Queste erano Maledette Che ogni volta Si segnava Sul cross Così Arrivavi Forse In mezzo In mezzo In gol Spero che Sia cambiata Sta cosa Bravo Noia Oh Forse è successo Un fischio da portare L'arrivare In federe Che ha deciso Ne prende Ha munito Ha deciso Di ammonirlo Per questo fallo Che si L'ha preso Nettamente L'ha preso Nettamente Poi la velocità del replay Fa vedere Non si capisce nemmeno se il piede vada a pestare l'altro Come sia andata bene l'azione Non si capisce molto Kingsley command Niente Crochette varie Ma non riesco Non riesco a andarmene In dribbling Dai Ah non funziona Il dream Per me Sta cosa Del dream L'attività Roba Non so Magari senza skill Magari a provare A muoversi Nello stretto Senza l1 Tipo Liberarsi Del marcatore Giusto Il Sanè Continua a girare Giusto Muovendosi Solo con la levetta Sinistra Magari Magari Quello Il cambiamento Perché Con la skill Io ci provo Non riesco a superare Comunque Vado Punto L'uomo Faccio la skill Nell'1 V1 Ma Non riesco a superare Io rimango davanti Io rimango Di fronte E poi Lui Mette il piede Maru Punto Sto provando Appunto Vedi Ho provato Sta cosa Di muovermi Collo Con la levetta Sinistra E Mi rimosso bene Non si è inchiodato Il giocatore Non è rimasto Fermo Ma Comunque Ha dribblato Alcuni giocatori Quindi Forse Questo Il miglioramento Poi Ovviamente Giocatori Molto più esperti Di me QPES Che Essere All'interno di più Più forti A livello Di gameplay Sapranno meglio Cosa cambia Cosa non cambia Dove Andare un po' Più avanti Leggermente Più avanti Raventato Troppo Prima Ho paura Di correre Di correre In faccia Al portiere E gli Fammi rubare La palla Così E quindi Ed eccolo qua Cross Che stavo Dicendo Appunto No Li hanno sistemati Non sono più Rotti Cross In mezzo Testa Da lontano Che Era comunque Lontano Rispetto Dall'area Era fuori Dall'area Piccola Gol Il portiere Battuto Che va La manzina Va bene C'è un'altra squadra Facciamo Arsenal Manchester Parti Ha imbrogliato Queste Ronaldo Bella Questa difesa Che iniziava A darsi fastidio Vabbè Abbiamo iniziato Benissimo Continuiamo Dall'area Martinelli Ruba la palla Ma mi sa Gabriel Martinelli Passaggio In mezzo Ma Che parata Che parata Degea Che riflessi Manca noia Prima Sul colpo Di testa Tomiyasu E' stato comunque lento Altra che l'attività Nei dreaming Buono Anche se credo fosse Braccio A meno le squadre Nella partita di prova Potevano aggiornarle Tierney Non fa nulla Vediamo Sto sbaccato Niente Fraterni Sto sbaccato Niente Va di piede Vai Caca Granito Niente Cos'è stata A U Facciamo A nulla Andiamo A farlo Per bene Perché Non capiamo Mancate Le cane Perché Comunque il gioco Continua A contraddirmi Non mi piace Sta cosa Così Perché lo sto facendo Sto video Se no Devo dire Dei miglioramenti Che avete Ha portato Al gioco E non mi lasciate Fare Per me Quando li metteranno Online Comunque Troveremo Un sacco Di problemi Di nuovo Ce sarà Di lamentarsi Ancora Thomas Perché è bello No Fluido Tranquillo Giocabile Alla grande Bello Nuovo Si Contro il computer Cos'era sto passaggio Non lo so Però Ho trovato Comunque Fucaio Thomas Party E filtrante Comunque Contro il computer Di solito Il gioco Funziona Meglio Tranquillo Perché Non ci sono Connessioni In mezzo Implementate E non c'è Lo script In mezzo Implementato Mentre Quando andremo Online Oltre alle due Connessioni Dei due Persone Che si affrontano Chi più Chi meno Pinga Rispetto al server Ci sarà Anche il fatto Dello script E le cavolate Varie Che ci sono Sempre Nei giochi Online Questa Non so Se definirlo Uguale A prima O Leggermente Migliorato Ho provato A farlo uscire Perché Dobbiamo controllare Questa cosa Appunto Che Nelle Pace Non si dicono È migliorata Che nell'uscita Il portiere Comunque Si Butta Si tuffa Rispetto a prima Che Era Gol 100% Magari Questo Era un 50-50 Nell'uscita Il portiere Comunque Va Verso Il pallone Però Non c'è Comunque Arrivato In questo Caso Lancio Lungo Io Provo a farlo Il mio giocatore Non segue mai La palla Si ferma Guardare la palla E poi inizia a fare Vedremo Vedremo Poi Vediamo Così Il kick off Pure Pure lì Tato L'ho visto Con questo Stiamo giocando Fuori gioco Non ha fischiato Strano Altra cosa Migliorata È il fischio Nel caso Di fuori gioco Che Prima fischiava Ogni volta Anche se L'avversario Recuperava Palla E quindi In teoria Non devi fischiare Perché La palla C'erano loro E L'azione La stanno Portando avanti loro Mentre Invece Prima Fischiava Appunto Ogni volta Ogni fuori gioco Anche se Non prendevi La palla Era fischiato Ma Secondo me L'avrebbe fischiato Nella versione Vecchia Anche se Ho cambiato Giocatore Non l'avrebbe fischiato Comunque Voglio provare A fare un lancio lungo Comunque Stavo dicendo Del kickoff Glitch Che hanno migliorato L'A dei difensori Per Tenere la posizione Andare indietro E Fare in modo Che Avvengano Molti meno Kickoff Glitch Mentre si gioca Forse Prima Non sarei avanzato Così facilmente Eh Forse Prima sarebbe stato Il più macchinoso L'azione E L'avversario Mi avrebbe recuperato Prima palla Non vorrei dire Cavolate Però qua Il fuori gioco Non c'è Perché eravamo Prima della Porca vacca Prima della linea Di cento campo Comunque Io non volevo andare Non volevo andare Come magari Come cavolo Si pronuncia Su di quello Perché sapevo Che avrebbe passato All'altro Però comunque Mi ha andato Nonostante le due L'ho lasciato Non lo stavo più Prima dove stavo andando Verso l'altro Difensore Mi è andato Comunque A coprire Poi avvest Poi prendono il palo O rispinge il portiere Poi prendono il palo Comunque la pala Che ritorna E segnano Saffa voda Comunque Appunto Questo vi dimostra Che siamo Siamo qui A testare I cambiamenti A impegnarci A giocare Chissà quanto Bene E quindi Anche se a livello Di superstar Non è che sono Proprio così Scarso scarso Così non so giocare Contro i top club Di superstar Però ok Ho provato a fare Quello paghiamo Mi ha preso la palla Comunque Calci d'angolo Che Proviamo a darla Lì Non ci arriva Tommy Yasuo Questa volta Se la farà la scuola No Ok E tira a giro E domina Su Non è che Cioè Eccezionale Adesso Vediamo un po' Cos'altro Possiamo testare Se no Io La concluderei pure Perché se no Non viene Troppo lungo Il video Quindi Si Vediamo un po' Cambio di gioco Ok Il lancio Lungo Ah se qualcuno Scatta Se qualcuno Mi scatta In avanti Però siamo già Troppo sotto Per farlo Come si gira Sbagliato Passaggio Sciacca Non rimane Frenutino Ok Vodegaard Si gira a parte Martinelli Che non la prende Non lo scatto La segue L'aggancia Si Bello Questo è bello Lancio lungo Ha funzionato E Aubameyang Mi ha agganciato bene La palla L'ha seguita E l'ha agganciata Stoppandola Perfettamente Buono Buono Questo Molto Buono Ormai La portiamo a fine Ormai la portiamo a tenere La partita Siamo al 72 Proviamo a fare Qualche altro Lancio lungo Spero che Non siano Diventati Troppo forti Come meccanica Fallo Fallo Giusto Giusto E comunque Non mi piace Che Quella dei Cross in mezzo Sia ancora così Rotta Perché Comunque Il portiere Sta attento Il portiere Dovrebbero Prenderla Il 90% Delle volte Una palla alta Nella loro area Così In quel modo Quindi Lancio lungo Ok Aubameyang E se è fatto Bene Come giocatore E la stoppa Al volo Per bene O Li hanno migliorati Perché comunque All'inizio Di questo Lancio lungo Non la stava Seguendo Tanto bene L'azione La palla Non la stava Seguendo La stava guardando Come dicevo Prima E poi È andato A seguirla Mi ha detto Mi chiamato Questa palla Uuuuh C'è arrivata Ce la devi fare Finta di colpo Quanto pare Ma non ce l'ho fatto Se lo metto E' il processo Palla Di sotto Dello stile Di gioco Sempre Il processo Palla Un stile Di gioco Con cui Non ho mai giocato Io non so Nemmeno Bene In teoria Rimane in posizione Così Bene Non lo conosco bene Come stile Di gioco Frossi in mezzo De che Attento La prende Perfetto E ho fatto Troppo sotto In effetti Ah mi ha selezionato Parti Ma in realtà Doveva selezionarmi Shaka Ganito E provare A vedere Un attimo Visto Nella fine In attacco E un po' Alzando la linea Però Se mi fai queste cose Bene ragazzi Io lo confonderei qui Abbiamo testato Un bel po' di roba Non so se Ho fatto bene Se ho testato Tutto Quello che c'era Da provare Però Io vi saluto qui Abbiamo un po' Visto la 1.1.0 E Abbastanza Garbata Però Era ancora Solo controllare La IA Il test Vero e proprio L'avremo Il 2 giugno In live Quando giocheremo Ai football Contro persone vere Quando torneranno I campionati I football Vi ricordo Per due settimane Fase speciale Perché non durerà Un mese Siamo appunto Le due settimane Prima Della Stagione 2 Anche se L'icona C'è già sul gioco Ancora Siamo in pre Season 2 Noi ci vediamo In un prossimo video Con la motion Adesso è tutto Ricordo di commentare Iscrivervi al canale Attivare la campanella Mettere mi piace E condividere con tutti Questo video Ciao a tutti